Ci sono momenti in cui essere sedentari può rappresentare una minaccia per la propria salute. Per queste situazioni, ASL ha creato i Gruppi di Camino. Un'occasione per uscire di casa, muoversi e stare insieme ad altre persone. I Gruppi di Camino sono aperti a tutti e vengono organizzati in moltissimi comuni della provincia di Bergamo. Non state ad aspettare. Partecipa anche tu ad un gruppo di Camino. Camminare fa bene al cuore. Grazie.